Il dado è tratto, con Vardanega non si parla più, non si torna più indietro. Eccola la determina con cui l'amministrazione comunale ha dato mandato ai legali di togliere il cantiere alla ditta per inadempienze. È stata pubblicata in giornata sull'albo pretorio del comune bassanese. Altro che sospensione in autotutela, gli avvocati percorreranno la via del giudizio, si spera più velocemente possibile, per poi dare modo al comune di riaffidare il cantiere a un'altra ditta. Al vaglio anche la strategia legale, di fronte alla richiesta di pagamento avanzata dall'impresa. 1.300.000 euro il conto messo sul piatto e consegnato all'amministrazione. Intanto Gian Antonio Vardanega si è impegnato a rimuovere le ture, cosa prevista dal contratto. Evidentemente ha letto tutte le clausole, rendendosi conto che, in caso di danni, sarebbe stato lui a doverne rispondere. Nel frattempo dal ponte arrivano questi scatti. Le transenne posizionate in occasione della dunata circoscrizionale degli alpini a causa del vento sono cadute. È un po' la metafora della situazione attuale. Il ponte vecchio è a terra. Speriamo che sappia risollevarsi il prima possibile.